Fino a questa sera è in programma la terza edizione del Lungomare delle Eccellenze, un evento pensato per valorizzare la cipolla bianca di Margherita IGP. La manifestazione è promossa dall'amministrazione comunale di Margherita di Savoia e dal Consorzio di tutela e valorizzazione della cipolla bianca di Margherita IGP. Francesco Rossi. La cipolla è sicuramente un punto di riferimento di tutto il comparto agricolo qui di Margherita di Savoia. Sì, è il prodotto che è maggiore come quantità, è maggiore come volume d'affari e quindi è quello che dà più economia al territorio. Qual è la caratteristica che è la differenza dalle altre cipolle? Intanto la tecnica di produzione che è rimasta invariata negli ultimi secoli, è tutta manuale, poi le sabbie circondate dal mare e dalla salina e quindi dal territorio su cui insiste e si ottiene una cipolla che è dolce, particolarmente dolce e anche tenera e succulenta per cui ha un gusto diverso rispetto alle altre. Con l'IGP abbiamo ottenuto un grosso risultato di aver diversificato i canali di distribuzione, cioè adesso siamo presenti nella grande distribuzione, i Coop, Lidl, S lunga nella zona del nord, cosa che prima non avevamo e questo è stato un grosso risultato, ho tenuto conto che la tendenza ormai è a passare tutte le vendite attraverso la grande distribuzione. Per il futuro vogliamo migliorare, abbiamo lavorato per migliorare dal punto di vista della sostenibilità il ciclo di produzione e anche stiamo sperimentando tecniche nuove di raccolta e di produzione perché stiamo guardando con preoccupazione al calo del numero degli addetti nell'agricoltura, soprattutto i giovani che non si avvicinano, per delle difficoltà oggettive, cioè legate al reddito e al tipo di lavoro.